Finalmente Grisola Boccetta rivive, e rivive grazie all'impegno della città metropolitana che ha compiuto degli interventi di restyling di questo spazio importantissimi e poi rivive grazie a un avviso pubblico che ha fatto il settore 2 della città metropolitana grazie al quale si è individuata all'esito delle procedure amministrative previste l'associazione Ulisses per la stipula della convenzione, per la gestione di questo spazio. È un primo programma per il mese di luglio, noi abbiamo avuto la consegna dell'area solo pochi giorni fa però c'era un lavoro preliminare di contatti con altre sette associazioni che sono partner hanno firmato con noi un protocollo d'intesa che fa parte proprio del progetto e quindi ci sentiamo abbastanza forti, sono associazioni importanti come Scena Nuda, il Touring Club faremo una postazione informativa e divulgheremo tutto quello che ci daranno gli enti di materiale turistico Sì, non è una novità, la città metropolitana ha investito in maniera importante in questo per rendere fruibile nuovamente questo sito molto importante non soltanto appunto per il comune di Reggio Calabria ma rientra tra quelli che sono i siti archeologici della città metropolitana e oggi insieme all'Associazione Ulisses con la Presidente, la Professoressa Cagliostro presenteremo quelle che saranno un po' delle attività, parte delle attività che verranno appunto essere svolte dentro quest'area